A un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Barcellona e Monaco. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchiagiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Robert Lewandowski. In una partita come quella di oggi sarà determinante la prestazione dell'attaccante per il risultato della squadra. Certo lui dà il meglio quando viene servito in profondità con palloni filtranti. Se i compagni sapranno rifornirlo in questo modo potrebbe davvero essere l'uomo partita. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. E' stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Sono partiti con molta determinazione e stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Vuole una profondità. Lewandowski! Tiro davvero da dimenticare. Si è mosso bene ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Stanno tenendo un gran ritmo e una grande aggressività. Di questo possono essere contenti ma poi devono concretizzare di più. E se vi foste sintonizzati solo ora tranquillizzatevi. La partita è ancora solo 0-0. Lungo passaggio in avanti. Era un tentativo apprezzabile. Non ha trovato l'uomo. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. Bel pallone. Ottimo disempegno. Fondamentale. Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Riceve il passaggio. Prova il filtrante. Dunque rimessa laterale. La mette in avanti. La mette sulla fascia. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Sulla destra. Tocco morbido. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca spazio. Riceve un pallone interessante. E passa. E' stato un brivido per la squadra. Ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. L'azione si stava facendo pericolosa. Ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. E si chiudono i primi 45 minuti.